Si torna a parlare di calcio, signori, lo facciamo con il Milan, che è ancora assolutamente a caccia di un vice-giraut. Okafor non è una prima punta vera e Colombo è ancora, diciamo, non pronto. Piacciono intanto e chitiche del PSG e Broia del Chelsea. Il Milan scandaglia il mercato alla ricerca di un vice-giraut. Ha 36 anni, infatti, l'attaccante francese non può reggere da solo il peso dell'attacco. Certo, c'è il nuovo acquisto Okafor, ma non è un centravanti vero. Il Lorenzo Colombo è ritenuto ancora troppo giovane per sostituire l'ex Arsenal. Due le piste che sta battendo il club rossonero, Hugo Echitiche del PSG e Armando Broia del Chelsea. Già, non bisogna dimenticare che Divo Corigi fa ancora parte dell'organico a disposizione di Stefano Pioli. L'ex Liverpool non è riuscito a imporsi in Italia, tanto da finire subito in lista di sbarco anche per via del suo ingaggio pesante. Al momento, però, l'accessione non si sblocca. Pur essendo considerato un esubero, il calciatore ha rifiutato le offerte pervenutegli da Turchia e Arabia Saudita. Il Milan spera di piazzarlo quanto prima per liberare una casella lì davanti. E Colombo? Il ventunenne di V-mercato, che ha fatto parte di tutte le selezioni giovanili dell'Italia, è reduce da una buona stagione con la casacca del Lecce. Cinque i gol realizzati nelle 33 presenze collezionate. La sensazione è che il suo percorso di crescita debba ancora continuare in un club senza eccessive pressioni. Genoa e Cagliari si sono fatte avanti. Con Claudio Ranieri che lo accoglierebbe a braccia aperte in seguito all'infortunio di La Padula. Il classe 2000 prelevato dal Salisburgo ha talento da vendere, ma nel campionato austriaco non è mai andato in doppia cifra. Questo perché non è un centravanti vero? Pioli l'ha spiegato sin dal primo momento, pur potendo essere adattato al centro, un po' come successo in passato per Rebic, Pocafort si esprime al meglio sulla sinistra. Sulla casella, cioè dove gioca Leao. Ha prodato al Paris Saint-Germain dopo aver realizzato 10 gol in Ligue 1 col Rheims, e Chiti che ha fatto fatica ai piedi della Torre Eiffel. Chiuso dalle stelle parigine, è andato a bersaglio solo tre volte. Fisico da corazziere, è alto quasi 190 centimetri, il 21enne potrebbe essere il sostituto perfetto di Giraud. Ma costa tanto, almeno 20 milioni. Il Milan vuole capire se ci sono i margini per ottenerlo in prestito. Stesso discorso vale per Broia, la scorsa stagione sogno di mercato del Napoli. Il gigante albanese ha praticamente trascorso la stagione fermo ai box per infortunio. In questo caso non preoccupa il Chelsea, ma la tenuta fisica del calciatore. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like, e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, oh è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.